Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo tutorial nel quale oggi torneremo a parlare insieme di Fire TV Stick, o meglio del suo telecomando, che con ogni probabilità usiamo tutti i giorni, senza però avere idea delle moltissime funzionalità nascoste che diventano accessibili esclusivamente premendo delle particolari combinazioni di pulsanti che consentono di eseguire molto velocemente delle operazioni di uso quotidiano, come ad esempio riavviare la Fire TV oppure saltare gli annunci di Prime Video assieme a molte altre scorciatoie che vedremo nel corso del tutorial, non prima però di avervi ricordato che se vi piacciono questi contenuti potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo naturalmente vi ringrazio di cuore in anticipo. La prima funzionalità accessibile molto rapidamente dal telecomando di cui voglio parlarvi oggi permette di riavviare la Fire TV così da risolvere una serie di problemi che possono coinvolgere l'intero sistema in generale che rimanendo attivo per troppo tempo può diventare particolarmente lento oppure anche solamente il malfunzionamento di un'applicazione quando per provare quantomeno a risolvere il problema un riavvio diventa la prima cosa da fare. Normalmente il riavvio della Fire TV si può fare in due modi, il primo più brutale è quello di staccare manualmente il cavo di alimentazione oppure il secondo più gentilmente entrando nel menu impostazioni selezionando la voce la mia Fire TV dove nel menu dedicato è possibile riavviarla, spegnerla oppure riportarla alle impostazioni di fabbrica. Altrimenti il modo più veloce per il riavvio consiste nel premere contemporaneamente per alcuni secondi i tasti play e selezione del telecomando fino a quando a schermo non comparirà il messaggio che la Fire TV Stick si sta riavviando, combinazione di tasti che diventa particolarmente comoda soprattutto perché è accessibile da qualunque applicazione. La seconda funzionalità raggiungibile sempre dal telecomando è il pannello delle scorciatoie di Alexa che si può attivare con il tasto del microfono che normalmente usiamo premendolo e tenendolo premuto per parlare con l'assistente vocale. Tasto che se invece premuto brevemente e poi rilasciato fa comparire in basso sullo schermo il pannello delle scorciatoie di Alexa che consente di aprire molto velocemente i controlli della casa intelligente, le previsioni del tempo e la guida appunto ad Alexa. Ok, ecco tre cose da provare. Per parlarmi tieni premuto il pulsante del microfono sul telecomando e parla dopo un segnale acustico. Per parlare con me, di il mio nome e chiedimi qualcosa. Prova a dire, Alexa, che tempo fa? Ok, passiamo al successivo. Per un aiuto in cucina, prova a dire, Alexa, aggiungi le banane alla mia lista della spesa. Ok, passiamo al successivo. Posso tradurre parole e frasi per te. Prova a dire, Alexa, come si dice buon compleanno in spagnolo? Ok, se vuoi riprendere questa introduzione più tardi, di, Alexa, aiutami a cominciare. La terza, utilissima funzionalità, accessibile sempre dal telecomando, permette di saltare a pie pari gli annunci che vengono mostrati prima dell'inizio di un film oppure di una serie tv che, come vi dicevo, possono essere ignorati premendo il testo di avanzamento rapido del telecomando. E un altro menu contestuale che probabilmente non tutti conoscono, accessibile anch'esso dal telecomando, è quello richiamabile premendo e tenendo premuto per qualche secondo il pulsante home. Azione che fa comparire questa finestra da dove si può, oltre a consultare data e ora, anche cambiare il profilo corrente, visualizzare le applicazioni installate, mettere la Fire TV Stick in stand-by, duplicare lo schermo dello smartphone oppure del PC ed infine entrare anche nel menu impostazioni. Per concludere con l'ultima funzionalità, accessibile anch'essa, anche se in modo un pochino nascosto dal telecomando, che permette di cambiare la porta di input della televisione, azione che, come sappiamo, il telecomando non è in grado di fare con la semplice pressione di un tasto, ma può invece riuscirci con la voce se in precedenza abbiamo configurato la televisione nel menu impostazioni. Dicendo ad Alexa, passa ad HDMI seguito dal numero della porta che vogliamo attivare, puntando il telecomando, che in questo caso deve ovviamente usare l'infrarossi, verso la televisione. Oppure, ancora più facilmente, se nel menu impostazioni dedicato assegniamo un nome alle periferiche collegate, seguendo la semplicissima procedura guidata, invece di dover specificare il numero della porta, sarà sufficiente dire il nome della periferica. Tenendo presente che disponendo di un telecomando di ultima generazione, è possibile assegnare questa funzionalità a uno dei pulsanti personalizzabili, così da poter cambiare la porta di input premendo semplicemente un tasto. Considerazione che conclude anche questo tutorial, dove come sempre spero di essere riuscito a proporvi qualche spunto interessante e vi ricordo che per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione, dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.